Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crema gianduia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono nocciole tostate, cioccolato fondente, burro, panna fresca e zucchero. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le nocciole e lo zucchero. Le facciamo tritare per 30 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il cioccolato fondente a pezzetti ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la panna, il burro ed azioniamo il bimbi per 5 minuti a 50 gradi a velocità 4. La crema è pronta, serviamola. crema gianduia, ideale per farcire torte, bignè o come dolce al cucchiaio. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.